miseria adesso vi spammo un po' di dub in chat ma si ma che cazzo me ne frega a me abbondiamo abbondiamo cosa faccio? questo ma si perchè io posso e anche un messaggio di insulti buonasera buonasera come state? come state tutti? tutti e tutte tutti tutti e beh bannami questo Isa l'ho detto l'ho detto sono un giovane scappestratto anch'io oggi Sheldon che fa sette mesi sono già passati sette mesi me ne ricordo come se fosse sette mesi fa sei bravissimo sei proprio bravo su real menina miau grazie mille anche a lei e Xebok dov'è? ah si mi ricordo sei quello bianco che c'è la faccia da pirla ti si vuole bene grazie mille Xebaok anche io vi voglio bene intanto voglio ringraziare il signor Supporto che mi ha regalato un gioco misterioso di cui stavo già pensando di fare il video ieri con Moro tra l'altro non il video assieme a lui ma stavo dicendo a lui e stavo pensando di fare il video su questo gioco e lui mi ha detto si vi sarebbe bello fallo e allora ho detto si dai così quasi me lo compro e niente me l'ha regalato oggi invece il buon Luke mi ha messo sotto gli occhi un gioco che a quanto pare avevamo già visto ma di cui non mi ricordavo un cazzo è un gioco in accesso anticipato dai creatori di I am bread e Sargent Simulator e no non è una puttanata ma è un MMO che sembra essere molto interessante costa tantissimo costa tantissimo sono molto incuriosito la live che stiamo andando non so niente quindi sarà tutto nuovo per me quindi la live che stiamo per andare a fare sarà una live di prova per vedere se chiederò il rimborso o se manterrò il gioco perché costa 30 euro e so tanti so tanti porca miseria sono un sacco di denari non me ne ricordavo nulla appunto fortuna che c'era Luke che evidentemente l'ha messo nella lista desideri e gli è arrivato il messaggio dell'accesso no non dell'accesso anticipato scusatemi della beta closet beta che è obbligatorio comprare il gioco per provarlo 32 se vogliamo essere precisi ma io ne ho pagati 27 gabriel perché avevo venduto qualche qualche cassa di H1 Z1 e quindi niente vedremo spero di fare cosa gradita non mi torna più indietro spero di fare cosa gradita a quelli che magari lo conoscevano già e magari dissipare i loro dubbi riguardo al titolo lo provo quindi magari qualcuno era interessato lo vede e decide a comprarlo oppure non comprarlo oppure chiede un rimborso anch'io oppure magari qualcuno non lo conosceva e l'ha conosciuto intanto ringraziamo ancora Luke che mi ha ricordato della sua esistenza grazie gabriel va bene però io dovevo ringraziare anche qualcun altro tipo Arre Jules che ha rifatto la sub ah si mi ricordo Fiderpis che è arrivato adesso invece dica pizzibutti vada avanti vada avanti vada avanti vada avanti se mi lasci se mi lasci però otto mesi grazie io l'ho conosciuto adesso vedi alle flame e poi Bonny che invece mi ha scritto sette ore fa sette ore fa non ero chiaramente in live salvegatto sono sbronzo per davvero mi scuso ma non riesco più a seguirla in live che peccato sempre in pasta ficcante in abbondanza un saluto a tutti i pastoni grazie mille a Bonny ma grazie mille anche a Savaro la live mi si blocca ma ficcante in abbondanza grazie mille Savaro c'è anche Amleto subito così subito che dice salvegatto mi sa che è uscito Friday 13 The Game parere è già uscito fammi vedere non lo so lo stavamo tenendo d'occhio io però non ce l'avevo in lista desideri aspetta eh cazzo sta uscendo puttana 37 euro minchia guarda lo aggiungo in lista desideri per ricordarmene poi però so tanti soldi anche perché sembra Dead by Daylight dalle immagini vedremo vedremo ne riparleremo più avanti magari adesso per ora non ne non mi ricordavo che dovesse uscire ma dovevo ringraziare anche qualcun altro Bonnie Lee Supercanta per colpa di un'università non riesco a seguire le tue live ma la resub la faccio comunque lestamente grazie mille e Zebron te siamo a 4 grazie per le grosse risate grazie mille grazie mille a tutti quanti è sempre un piacere anche per i past broadcast chiaramente è sempre un piacere salutarli quindi un saluto a tutti quelli che purtroppo non ci possono essere in live ma che comunque se le godono se le godono qui su twitch come past broadcast oppure su youtube ricaricate dove ho detto questo ah si mi ricordo sei quello biondo che c'è la faccia da pirla va bene Lello grazie mille anche a lei buon argenzio buon argenzio sono meno cotto di ieri stasera però sono un frizzantino ricordo prima di partire come al solito mi spiace perché sembra tedioso sembro attaccato ai soldi sembro un rompicoglioni sono rompicoglioni però vi ricordo che twitch prime dovete rinnovare a mano gratuitamente me l'ha chiesto uno addirittura allo spettacolo di karim ma come funziona twitch prime devo pagare ogni mese no però devi cliccare su abbonati ogni mese non paghi niente però devi cliccare su abbonati ogni mese se clicchi c'è scritto non ancora non fai niente se clicchi c'è scritto subati lo devi fare perché così non perdi giorni di sub così non ti perdi video di nati prima così non ti perdi i video solo per i sub merdi che dice vorrei subarmi ma vivendo a san marino twitch non me lo permette come quindi per ora ecco a lei è una cosa interessante vorrei saperne di più ma non perché voglio la tua sub ad ogni costo ma perché che vuol dire san marino non può farti non funziona twitch san marino buon sciva condivido con lei qualche spicciolo che ora lavoro oh che bene sono contento che porta sempre tante risate nelle nostre vite le voglio bene sempre verde gatto grazie mille nord sempre verde gatto bello e allora adesso bastia grazie mille c'è anche barricchio lo so ecco lo sapevo lo sapevo sette mesi per lui grazie mille ce n'è un altro l'ho visto tusk grazie mille finisco l'adorazione gatto bello un saluto alla chat vocale di twitch un saluto alla chat vocale di twitch vi ricordo che c'è un link dovevo mettermi il link delle cose per link che bella che è sta cosa non la sto usando praticamente un cazzo però ogni volta che vengo in live vedi io ho il tasto per scrivere questo però non ho il tasto ad esempio per spammare le magliette per spammare course che è diventato l'applicazione non ce l'ho il tasto dovrei farlo però io posso fare questo ah come sono burlone come sono burlone ve la fate la ola? ai che puttana ha dato una gomitata vabbè dai io direi che possiamo tutti simpatici qui tutti simpatici cosa vibri cosa vibri ah no mi è arrivata effettivamente una notifica ringraziando il signore e vuole bannare me per un messaggio sarcastico e non capisce il cretinone sexy sono proprio un simpatico simpatico sono come si fa come si fa a vedere la faccia da pirla ti fai la sub per due mesi poi da lì non te la togli più culo lei va bene dai lo premo questo bottone che mi fa niente lo ripremo la seconda volta ci deve essere anche un tasto perché mi giri la webcam qua e dov'è la professionalità bene andiamo a provare l'ho solo scaricato non l'ho neanche installato quindi sarà tutto nuovo per noi dov'è eccolo qui worlds adrift dopo due mesi diventi sempre più pirla sì allora scanner resolution non c'è 1900 ma perché window va in figa no 1900 per 1080 grafica ad alto spari facciamogli esagerati porca merda dai alto mamma mia mi esplode il pc mi esplode ok ah sì mi ricordo sei quello biondo che ce la faccia da più micro roots non ho un account creiamo un account mi porti fortuna per l'esame di domani andrai alla grande te lo dice io puoi fidarti di me eh puoi fidarti puoi fidarti di me player name il gatto chiaramente però non si è già preso ah sì mi ricordo scusate che mi registro un attimino bella è un piacere supportarti steve supportarti grazie steghido gentilissimo cos'è che spamma quello lì cosa spam cosa dice cioè spiegami perché cazzo dovevi spammare una domanda così del cazzo scusate volevo vedere si vede il gioco perché sto usando altro ok iscritto ricambi maggiore di no però grazie mille iglio vedete che devo dire che non sono un robot qui a google cosa c'è no hanno già preso il gatto è il gatto sul tubo fa cagare però chi è digibrutis ciao gatto sei contento che la prima donazione sia per te grazie per le risate che ci fai fare che male perché l'ho fatto ah si mi ricordo sei quello biondo che c'è la faccia da pirla cinque mesi temo blade grazie mille cinque mesi per lui non mi stanno prendendo il nome porca vacca non mi stanno il tuo è stato riettato perché le capitali non possono seguire capitals cannot follow another letter questi sono i capitals maiuscole ah le maiuscole cazzo che schifo il gatto sul tuo è solo gatto vediamo è solo gatto magari ci va di culo non sono un robot non sono un robot te lo giuro dai è solo gatto va è solo gatto è andata ma vieni ma sono il più ganso porca vacca ma si ma si ma chi sono ma vieni vedete che qui provo a scrivere ok se no basta che faccio così guarda premo e sparisce il gioco eh comoda questa cosa anche perché ho sbagliato ok sei sicuro sì per fortuna che c'era questa funzione perché avevo scritto la password nella mail e sono tornato avete visto che bella questa cosa però 150 euro sono tanti che caldo buono studio di chimica signor tipo dell'abisso han solo gatto va bene allora creiamo il carattere mi piacerebbe avere maschio ok faccia questo qui è un po' questo qui è tutto secco della morte skin color un po' giallino non abbastanza giallì scusami non sbaglio quel colore sta andando un po' strano ma perché deve avere i seni questo essere ma non è ma non è corretto non è giallo io lo volevo giallo ma questo qui è rosa è una bugia è proprio giallo non si può averlo giallo ma questo qui è color ricotta vabbè facciamo questo guarda che c'ha il colo tagliato colore delle labbra ma si ma chi se ne frega chi se ne frega capelli oh vedi oh questi capelli da giovinastro mi garbano marron e barba chiaramente la barba che bello forse posso cazzo e sono io quando ho i capelli tutti giù va bene accetto questa cosa ok marketing non me lo fa fare clothing body che bellino questo qui da link oppure da lavoratore bello no guarda mi piace questo qui colore primario questo bel bordo non è no blu no fa un po' cacca verdino come l'eroe del tempo uh colori secondi pure quanto quanto bello troppo fa un po' caccare ok l'accetto così guarda scusami questa cosa qui che cazzo è oh eh e basta ah e uzon e per forza non ce ne sono altre confermo va bene gatto vai arrivederci e niente è andato è andato 30 euro fedelpis sto per dire 50 ma non è è 30 che ci sono varie cose 30 50 e 60 euro in base al contenuti che vuoi in game poi cioè c'era anche quello da 60 euro con e i video da mettere in live per gli stream però cazzo se non faccio altro chi me ne frega ma guarda lì che c'è paolo cannone ciao paolo cannone posso giocare aspettiamo bello comunque per adesso è bello si è offeso se n'è andato ha detto no vai in figa che cazzo vuole questo beh va bene allora volete giocarvela così con le stronzerie e io vi metto la sub only così imparate a spammare porcate in chat capito che c'è il signor paolo però non vuol dire che possiate fare i furbi che cazzo di scatti allora vorrei sistemare un attimino l'audio disable music settings non ci sono i settings adesso lo posso togliere eh vedi vedi vedetevi che bella il potere della stream deck ok grappy nook bellissimo che cazzo è il potere della tecnologia lì allora spider man tu sei l'uomo ragno spider man dovrebbe lungarsi per 50 metri oh vedo già faccende costruite lì allora non vi ho introdotto al gioco intanto vediamo lì che ci sono delle cose da ammazzare non posso intanto vedete che ci sono delle cose volanti praticamente questo gioco è strutturato per isole volanti un pochino come quelle di avatar un pochino come quelle di altri giochi praticamente il nostro scopo è costruirci e costruirci scusate delle navi volanti come quelle dell'isola del tesoro scusami del pianeta del tesoro e te la puoi costruire come vuoi vabbè mi butto aia con control si scende era un po' effemminata la voce di questo bell'uomo lì sotto io ho una barra è la mia vita cazzo allora ho vari oggetti save age ok questo è per accogliere gli oggetti mi sta bene poi repair per riparare gli oggetti ship builder e questo qui credo sia per costruire la nave e lo scanner scanna tutto quello che trovi per acquisire conoscenza ok molto interessante posso scannare questo non posso scannare questo no posso ho preso due di conoscenza ah così ci si attacca c'è un timer hai avuto due di conoscenza bello studiare in questo gioco fanculo tipo qui con legno servito a niente ok ok aspetta eh qui c'è già qualcosina di costruito dammi della conoscenza uh oh lo ok crafta per completare le parti di nave c'è scritto servono ma si ma io non leggo un cazzo però è piccolino piccolino l'hvd posso posso ehm f1 mi fa vedere i controlli tab menu e interact rotate ok tab menu ok ho una pistola la posso mettere qui la posso mettere lì va bene dei colpi di pistola ehm conoscenza ok qui penso ci siano e poi i varie le varie ramificazioni crew non ne ho posso crearle in questo momento e crew leader io no vabbè ma mi serve qualcuno per forza con cui giocare non ce l'ho personaggio eccolo qui è vestito e c'ha questi equipaggiamenti qui ok abbastanza multitool ok ah posso creare questo mettendo le pallottole fammi vedere è il crafting questo vabbè muoviti buono scusate sto imparando a giocare in questo istante quindi mi capirete se non capisco buonasera a tutti dovevo pagare 60 euro per il setting giustamente ho toccato 25 di conoscenza per me interacto con tu hai preso l'ownership di questa nave abbandonata ok però non ho materiale mi sono dei fagioli beams ah dei beams non so cosa siano dei fagioli non ho idea cosa sono i beams in questa situazione qui ok ok ah giusto che qui si poteva edit ok si poteva sistemare il progetto dell'astronave porca vacca che bello va bene va bene intanto andiamo a raccogliere del materiale raggi ok grazie mille guarda che qui c'era klimb con la q spider man non sei l'amore cos'è questa dammi la conoscenza non è quindi probabilmente questo qui è una cosa da cicciare fuori con questo non so come funziona di questa cosa qui pick up object ok e non me lo no questo è repair old savage ok e perché non me lo fa fare vabbè proviamo a raccogliere ci qualcos'altro e qui c'è qualcosa questi mondi generati a culo però no dammi il 4 che lo scanno grazie arrivederci ok degli alberi che sono già stati tagliati da qualcuno quanto pare siamo matti la mia nave sta venendo danneggiata però cazzo dammi il tempo magari di capite un attimo adesso vedrete che capiamo come funziona allora devo raccogliere degli alberi guardate che bello non vedete niente cos'è che cazzo sei quello lì ha sputato roba eh ma io sono in mezzo alla tundra ok vi volevo far vedere perché è una cosa carina che avevo visto prima allora io con questo arnese qui posso raccogliere gli alberi come vedete qualcuno è già passato guarda praticamente funziona così e spacchi l'albero dove lo tagli guarda che bello e poi dopo raccogli 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 ottimo 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 raccoglimi tutto e niente quello lì è andato ormai arrivederci forse lo prendo troppo distante mi sa troppo distante come non detto aia scatta se scatta che scatti come mai questa cosa qui spiderman tu sei l'uomo ragno spiderman sono veramente castagne quelle cose lì allora ormai quegli arnese lì fan paura questo qui è l'arnese per riparare questo è per raccogliere gli oggetti però non ne ho bisogno ti scanno ti è grazie per l'info non ne ho ne ho fatto niente con la pistola cazzo incredibile era durissimo quello a fare con il rapino puoi fare il doppio jump è vero però devo imparare meglio a raccogliere gli alberi che qui è un po' un fastidio bello comunque raccogliere la legna sparandogli permesso non vedo non vedo grazie ok vabbè ci si fa la mano non è troppo difficile la cosa buono quello non me lo raccoglie proprio e neanche questo va bene cosa sono questi arnesi qui poi posso solo climbare però se io posso fare pick up object ah no è proprio ship builder quello lì non si può fare niente quanto bianco il cielo pensate tra l'altro che c'è la versione free to play uh oh ah no questo qui è il mio inventario questo qui che cazzo è poi tan 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 cosa c'è cazzo era cosa stracazzo era una civiltà perduta probabilmente comunque vi stavo dicendo che alcune mappe sono fatte dall'utenza oh queste qui sono quelli che volevo aspetta ci passo sopra lead metal come l'ho detto va bene me lo chiudi ok perché c'è la versione free to play di questo gioco scusami non si sommano ah sono due cose diverse c'è la versione free to play dove uno volendo si può può creare dei mondi magari vi interessava provare un'esperienza del genere beh ah ok si vabbè ma che palle che si insomma così scusa c'è lo stronzio fortuna che ho trovato questi vasi triangolari ok questo qui è il beam iron no lead no nickel no ok non c'è modo per pigliarlo subito no eh madonna addirittura Isa come mai sto dicendo giusto perché sto sbagliando ma per via dei colori del sottosopra del rumore ma questo qui lo ammazzo lo ammazzo gli sparo si è liberato mi sono attaccato merda mi sono attaccato aiuto aiuto merda e niente e sono sono morto come la mettiamo no dipendo da lui adesso eh non è una bella idea mazzare quello che ti sta trasportando però salve porca miseria che errore che errore voglio studiarti che fuor lo ciso cazzo ops nirby si ti pare il modo di respawnare aspetta sono morto e ho perso tutto chiaramente vediamo se eh adesso dove cazzo è che ero morto io ma che palle troppo male troppo troppo eh dio mio eh ma io rivolgo il mio cadavere e sarò caduto qui ero morto qui no non c'è una mappa non c'è una mappa eh dai mi potresti dire almeno dove che cazzo di bella isola è quella lì potresti almeno dirmi dove ho piantato la faccia però che palle vabbè considerate che è uscita adesso la beta oggi è uscita la beta non mi aspetterei sta gran figata di gioco però non è male sai c'è lo zaino laggiù l'avete visto? ma è questo qui? perché questo qui mi sembra un oggetto a cazzo no infatti ha scattato no non c'entra niente questo non mi cascare non mi cascare eh dove ci sono gli alberi ok grazie perché devo essere una patata io ok però stessi un deficiente ficca? io vi sto divertendo grazie tipo dell'abisso io non lo vedo lo zaino mi fido di voi altri perché uno avrebbe dovuto invitarmi a giocare a payday 2 perché è scemo non c'è dubbio qui non vedo zaini però che questo non sia uno zaino ma ne non credo buonersero buonersero buonasera buonasera vabbè climbò di qua che devo fare mi sa che ho preso tutto nel culo Non c'era prima Lo zaino dove sono cascato Non era lì Ho visto un raggio di luce No A meno che non sia quella sacca lì Che potrebbe essere quella sacca lì Ho scambiato per castagna Forse non puoi raccogliere gli oggetti persi È possibile Però lì c'era un oggetto Ecco una sacca C'è uno scroto qui Fammi vedere È la mia roba Scusami ma non c'è un modo Più rapido Per prendere gli oggetti Col control No Oh mamma mia Questo è un po' un altro di coglioni Allora ho capito dove è il problema del cielo bianco Ah Più di dieci per volta non si possono prendere questo Guardate il tavolo di legno Dell'altro legno Legno ancora La pistola che me la metto lì No che non lo voglio distruggere Figa Lo voglio mettere lì E poi qui Coglione Vuoi distruggere Non voglio distruggere niente Figa è una pistola Ma guarda che c'era il tasto Questo qui Tua mamma puttana Niente È durissimo Va bene Raccogliamo anche questo Allora Fare un albero Ci vuole un albero morto Ok E andiamo su Eh gazzu Lascia fare Sono un deficiente Non posso raccogliere i metalli Ma Metalli Insomma Non cadere È deficiente Quella cosa lì Non la posso raccogliere Sì cazzo Iron Minchia Come sono un minatore esperto Ah no Ma lì per terra è la roba Che casca Paura però Vabbè La raccogliamo dopo Buonasera Le mante volanti Credo siano utili Anche loro Cioè Intanto ti danno la carne La carne di manta Piano 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 Pianino 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 Ok Ah no Questo qui Basta premere la E Ok E Andiamo Lì Piano 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 Ok Che cazzo fai Deficiente Perché deve essere un coglione Quest'uomo Che vale che si Clippa dentro Giochi di live Perché soffri di vertigini Assolutamente si Ok Allora Stronzo Questo qui è proprio un pezzo di merda Aspetta che Magari partiamo A parte alta Chi è Te corro Come Va bene Grazie mille Aspetta che Adesso A sto punto Ehi Clim No Sono morto Ho nove di vita Posso mangiare queste cose qui Ok Ok Col 6 È andato Un po' di vita Ok Però non ne sta mangiando altri Quindi è un pezzo di merda Che paura Andiamo su per di qui Posso mangiare Non mangia più Non mangia più Non ci avrà più appetito Devo farmi Una bandiera E La bandiera si fa Posso Posso farlo Ci devo mettere Ah no Ma del Del must Che cazzo è Oh cazzo Dei Ah Dei palinteri Bisogna fare Aspetta allora Aspetta 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 Forse ho capito Che Un attimo Poi prendiamo L'altro oggetto No Qui Non me lo raccoglie L'oggetto non può essere Manipolato La grandezza Delle scritte È essenziale Ok Bastava trascinare dentro il legno Ci stavo provando Però Cazzo Cazzo Però si muore Troppo facile Troppo 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 Legno di Merda Scendiamo Scendiamo pianino Stavolta Che non perdiamo Neanche un po' Di vita La vedetta La vedetta Della natura Cosa ne sapete Voi Ma quindi io Con questo arnese Qui Con il rampino Posso raccogliere Le cose Anche Un bel cazzo Di no 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 Permesso Dov'è finita Adesso la mia roba Eccolo qui E facciamo Così Come abbiamo scoperto Prima Ehm Come Raccolgo Allora Questi arnesi L'oggetto Non può essere L'ha tagliato ancora? Vorrei far sparire Un po' di erba Qui Non vedo un cazzo No Ho fatto sparire Tu Vabbè Questo qui Viene con me Però No E niente Sono un mago Ma non faccio altro Che cazzo vuole? Oh Ma questo qui È roba da folli Ma non Ma non Vedi che sto Lavorando? Ma che Manta Di merda Dammi la Mia arma Che gli sparo Nel culo E non ci Riprovare Trascinare il legno Dal tuo inventario Aiuto Mi inculano Mi inculano Le mante Vabbè Cos'è però Che gioco Disgraziato Trascinare dentro Dal tuo inventario Ho capito Non ce l'ho Guarda Mettiti questa qua E mangia Qualcosina Avete idee? Seveggia Di metterlo preciso Oppure fare double click Non ho Ah ma me lo Lo mette allora Ma vaffanculo Va la Crafta Uh Che fatica Poi qui Che cosa posso fare? Oh Ci devo mettere Questo Qui Lì mi serve Questo Qui Qui mi serve No me ne serve ancora Di quello Non ne ho altro Che puttana Aspetta Eh Sì Molto bello Ma Come faccio A spostarlo? Non sta fermo Non sta fermo Devo mettermi nel range Della mia nave Beh Ok Alto range Of shipyard Abbiamo un problema Allora No No Non lo vuole Questo Ok Voleva questo Però Voleva anche questo Materiale No Questo qui No Aspetta che recupero Questo da qui Che tanto di questo Non me ne sbatte niente Ridammi Ridammi E ridammi Non rompere le balle Facciamo dopo Ok Ok Crafta Qui finit Cioè Ma non c'ho niente Non c'ho Ok Adesso c'ho Ah Eccola là Ho una nave Da guerra Aspetta Aspetta Allora Aspetta Aspetta Porca troia Porca troia Allora Tiramela giù No Va bene lì Cazzo Merda No Non volevo O sbagliai Mi scusi E lì È un ottimo posto Dove andare Vai su Maledetta nave Astronave Come ci salgo Dovrebbe aver chiarato Una bolla Eh Ma vi pare Vi pare il modo Mangio questo Che lo so che mi attaccano Maledizione Cazzo Sono mago Tiè E vaffan Puttana A posto Sto La grande Eh E va bene Porca miseria Però Ah no Questo qui È lo strumento Per riparare Ok Aspetta un attimo Eh Come faccio Ad andare Fino su Proprio bravi Con le battute Sulle mante Stasera siete On fire Eh Ok E sono qui Mo Dove è finito L'altro Ecco qui Questo Noi lo vogliamo Di sopra No Sopra lo vogliamo Sopra Anche qui va bene Molto bene Bravissimo Mangiati un po' di Coso qua Ma così apro La cosa Bello Sali sull'edificio Ma non è un po' Macchinoso Scusami Per salire sulla mia Nave Il colino Sempre in piedi Cosa succede Cosa succede Cosa c'è Sabri Grazie mille Io non lo so Ma questo qui Sono dentro Una cupola Fatta di magia Gusto Grazie mille Aspetta eh Abbiamo scoperto I segreti Del mondo No Non volevo Fare quello Volevo fare Questo E piazzarla Qui Scusami E come mai È sparita adesso Ah no C'è ancora Ok Abbiamo imparato Come si lavora Bastava saperlo Poi Rename Shipcode Non mi fa fare un cazzo Però Perché? Perché mi manca Il turboreatore Della minchia Cos'era questo Non mi ricordo Fammi vedere Cosa mancava qui Mancava questo E ok Mancava questo E ok Mancava 40 di quello E ok Crafta Crafta Non ha abbastanza Spazio Non so che dire Grazie mille A Andrew Però non ho capito Cosa vuol dire Che non ha abbastanza Spazio Io lo voglio Mi serve C'ho da lavorare C'ho da lavorare E non mi fa Modificare un cazzo Però Spendevo 60 euro Potevo mettere il nome Giusto Come faccio a spostare La crafting In un luogo più aperto A me va bene Però come cazzo si fa No Mi serve il tin Per riparare Sposto le robe Nell'invento Devi fare un po' Di tetris Nell'inventario Per liberare Lo spazio Per l'oggetto Ah ma perché Dici che è messa La roba a culo Maffanculo Ok Pensavo Fatto Fammi vedere Eh no Continua a dirmi Che non ho posto Continua a dirmi Che non ho posto E allora Che fa Che fa Non lo so Non ho idea Scusami Quanto cazzo è grande Sto a fare Fammi fare Vediamo Eh Multi tool Weapons No Ok Calippo Ho capito Non lo vuole Sto lino qui Questo lo vuole Come ti fa fare Questi Come mai Boh Mi sembra strano Che intenda La 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 roba circostante Qui C'è uno C'è uno Come si parla Hello Ah non si può ucciderla Scusi Hai già una crafting Lontana dalla nave No Quale Questa No Questa qui Fa solamente questo Posso spostare Questa cosa qui No Aspetta Non mi fa spostare Un cazzo Non credo Posso rubarmi Le cose Che faccio Provo a buttare via Delle robe Non mi tira il culo Non avere Una Una scatola Dove mettere I cazzi miei Devo buttare via Per forza Buonanotte Morenix Pare un po' Una Una minchiata No Sposto tutto Sinistra Dove Non ho Stash No Non lo voglio distruggere E' quello il punto Non capisco Distruggiamo questo Questa roba Che non conosco Dai Ho fatto un bel po' Di spazio Adesso vediamo Se ci sta Non ho spazio Ma mi sembra Strano che non ho Abbastanza spazio Sulla nave Cazzo è gigante Cioè figa Dov'è che non ho Abbastanza spazio Dai Ho capito Che sarà Lo spazio Intorno Però Porca vacca Scusami eh Se io sposto Tutti i pezzi Della nave A parte il fatto Che li ho persi Per sempre Maledetto io Dove è andato No vabbè La vela Non l'ha messa Nelle metà Sapete cosa vi dico Exit Proviamo con Un nuovo personaggio Cancelliamo questo Ne facciamo Uno nuovo Al volo E vediamo Un po' Se magari Il problema Era quello Sotto le balle 19 secondi Rimanenti Ma mi ha chiuso Tutto il gioco Ma non volevo Un po' Troppo così Ma guarda che c'è Un aggiornamento Di Sunset Ranger Ci riprovo Allora play Non posso crearne Un altro E lo rifacciamo Uguale In un attimo Ho detto Lo rifacciamo Ah Quella era La mia faccia Quella era La mia faccia Va bene Capelli Questi 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 Marking Non ci sono Ok Clothing body Questo Questo Cazzo Praticamente fatto Questo Li mettiamo Queste cose Queste qui E questi Pare identico Prima Confirmo Arrivederci È successo Una cosa Incredibile Allo schermo Mi sarebbe piaciuto Spostare la nave Non lo so Prima o poi Prima o poi Sì Prima o poi Palle È un pochino Male Che a me Non dispiace Sto gioco Però Cazzo C'ha dei problemi Ok Non posso Un po' Più Bello Niente Devo imparare A usare Il rampino Perché qui È la fine C'è uno Non ci prendo Fili È il numero Due In Que Però è bello Perché Avevo visto Che ti potevi Craftare Ecco Ho visto Che ti potevi Craftare Di tutto Facciamoci un giretto Così Poi dopo Chiudiamo Salve Lucidus Che fa Si attacca pure Lui È il mio Ma Io gli sparo Quello lì Signorina Aia È nostro Signorina È nostro Ormai È nostro Beh Non ci prendo Mai Che bello Lì ci sono Delle navi Vedete Che belle Lì in fondo Le voglio tutte Ah Vedi che qualcuno Lì sta costruendo Una nave Qui qualcuno Sta costruendo una nave Arca È costruito Una cassa Li rubo tutto No È mia la cassa Scusa C'è il suo È la cassa Cioè Il mio Inventario Va bene Devo provare a cadere giù nel mondo Come ho detto Va bene Ho visto che siete rimasti Veramente in pochi Stasera Magari non ficcava abbastanza Il gioco Nullo sazio Peccato Peccato Sembrava Carino Magari lo Lo provo da solo Vado un po' avanti E vediamo Il rimborso no Perché non mi sembra male Non mi sembra male Ma Vorrei capirci di più Va bene Siete tutti bellissimi Chiaramente Io vi ringrazio tutti Per essere Passati per la live Spero vi siate divertiti Come al solito Vi ringrazio per donazioni Sub E resub E niente Noi ci vediamo Domani mattina As always Pam 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 No Va bene Ah c'è anche Sabaku Sabaku fa schifo Siamo meglio noi Buonanotte ragazzi A domani